Tutti buonasera e benvenuti a questa ennesima, ormai io sono stanco di Elena perché ha trattato male l'ampredotto e quindi allora buonasera a tutti, ora mi ucciderà post diretta comunque no va bene, ennesima puntata di ho parlato a una capra, subito dopo ci sarà il salotto letterario come sempre vi ricordo 19.30, 20.30 ho parlato a una capra, 20.30, 21.30 salotto letterario intanto io controllo che vada tutto che è come sempre, com'è mio ruolo fare e bene c'è la pubblicità, non vi dico di cosa perché non posso dire e poi passiamo subito la parola a Elena e a Sabrina che stasera ci presenteranno l'ospite di stasera che andrà a parlare con la capretta lunare e allora Elena vai pure, buonasera a tutti e buona puntata Grazie Yuri, buonasera a tutti, ciao Sabrina, buonasera professor Scotta, Davide siamo felicissimi di averti qui, veramente contento Grazie, buonasera a voi ospite di questa televisione, veramente contento per cui apprezzo non solo l'invito ma anche il calore di questa conduzione per cui ben contento di essere con voi stasera, grazie e anche la capra lo è professore, anche la capra lo è, ci lascia come al solito un messaggio iniziale un po' per raccontarci che cosa ha fatto nello spazio sulla sua luna questa settimana e anche un messaggio particolare per te per iniziare la puntata questo nostro incontro ora abbiamo lasciato la nostra capretta ancora con il professor Romeo desiderosa di fare una gita in un buco nero e andare ad espedire così il welfare che gli uomini perdono che lasciano smarrito così nello spazio ed era ritornata un po' stranita questa nostra capra si sembrava di essere ritornati un po' indietro nel tempo e non ci aveva voluto dire niente col maestro Mangia ha preferito ascoltare le sue note musicali e l'incanto bellissimo della sua voce però intanto vi mando un messaggio di rimprovero perché Rata Corrige quando ho salutato Luca e Michele della tipografia di Venezia ho sbagliato, veramente ho volutamente sbagliato diciamo dicendo che la loro tipografia è a Santa Maria Formosa ovviamente no, è a Santa Maria Mater Domini a Venezia, Sestiere di Santo Croce e sono loro che stanno interpretando con le nuove locandina i messaggi un po' medievali, un po' anticheggianti fino anche un po' strusi della nostra capra da quando è ritornata nel buco nero allora ci racconta questo viaggio il professor Scotta dice che si è subito arrabbiata con la modernità di queste autostrade galattiche perché probabilmente la sua guida galattica per Capre sulla Luna era stata scritta prima non menzionava nulla su proposito di un casello interstellare con pedaggio e quindi forse al momento in cui l'ignoto autore di questa guida aveva compiuto questo viaggio se era messo in traccia del buco nero il casello autostradale non c'era e quindi la capra proprio dice maledetta modernità ci scriva e così all'andata già il viaggio è partito male perché ha dovuto pagare e hanno privatizzato ci scriva il passaggio dalla Luna alla costellazione dell'Ofiuco e così è cara anche quindi lo spazio sta cominciando ad assomigliare un po' troppo a una terra moderna e a ritorno invece sono cominciate le stranezze perché invece della macchina quella voce stridula automizzata della macchina che le chiedeva di pagare l'ha fermata un tipo strano sbrotolando un'oziosa pergamena chi siete? una capra che cosa portate? oh signor questi qua saranno mica della Ryanair adesso mi chiedono di pesare il bagaglio ho giusto un bagaglio a mano delle dimensioni giusto leggero, vede? sì, ma quanti siete? beh, una o un fiorino oh no le venne il dubbio di essere tornata un po' troppo indietro nel tempo e non indietro nel tempo così indietro che chissà quante altre avventure ci dovrà raccontare ed ora se siamo tutti pronti il professore Iuri partiamo come al solito con la parabasi nel posto sbagliato come dicono le capre poetiche ma il sarto immortale invaso da un'idea fissa non si adatta facilmente a simili anomalia sigla grazie a tutti 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 eccoci tornati e qua già mi chiedono che vogliono risentire la voce della capra di Sabrina dell'altro stoppista poi del microfono alla mia capra ma devo presentare questo professore allora il professor Davide Scotta dottore di ricerca in scienze letterarie retorica e tecnica dell'interpretazione di culture presso l'università della Calabria negli ultimi 20 anni ha collaborato con il centro antropologie e letterature del Mediterraneo con il centro radio televisivo e con la cattedra di etnologia dell'università della Calabria preso parte ad attività didattiche di ricerca in campi di indagine più articolati e si è concentrato su aree tematiche che hanno visto vitalissima la sua attività di ricerca essenzialmente aree tematiche di antropologia culturale e antropologia sociale all'interno di questo seminarium il focus di studio è stato sull'analisi della violenza delle mentalità sopraffattive e omissive e sull'antropologia dell'abbandono con attività di ricerca sul campo sulle dinamiche dello spopolamento in tutta l'area del Mediterraneo dal 2018 la sua attività di docenza si esercita presso l'università degli studi internazionali di Roma per i corsi di antropologia è autore peraltro di una ricchissima messe di pubblicazioni i cui titoli suggestivi incontrano moltissimo i miei gusti infatti mi piace citarne qualcuno a prova secondo me della duplice anima del professor Scotta antropologo e letterato fine studioso ed esteta raffinato con la mente denotativa e il cuore connotativo faccio qualche esempio le pietre che narrano la conoscenza itinerante attraverso il patrimonio paesaggistico storico geologico e antropologico oppure ancora altri sud o ancora analisi e valutazione degli aspetti identitari del paesaggio ora il maestro mangia venerdì scorso ha anticipato ai nostri spettatori professore qualcosa di te cioè la folgorante bellezza e qui cito letteralmente e l'impostazione teatrale della tua voce la tua vis retorica l'agile sicurezza e la disinvoltura con cui il tuo corpo asseconda le tue parole la tua gestualità abbacinante e la compostezza eccelsa della sua arts oratoria cito un'altra volta l'uomo l'arte e l'identità frammenti di diamante culturale questo è il distico che il professor Stefano Mangia ti ha dedicato adesso a te consegniamo lo sforzo della traduzione della interpretazione della spiegazione che restituisca a noi e alla capra il senso di questo messaggio in bottiglia un po' criptico che due menti eccelse e luminose si lanciano da un pizzo all'altro delle profondità intergalattiche a te professore buonasera e grazie dell'invito come vi dicevo prima le descrizioni di Sabrina e le parole del maestro Mangia in realtà annunciano una persona che chiaramente non sono io quindi in attesta vi tocca parlare con me per cui la persona che stavate attendendo insomma arriverà speriamo fra un po' nel frattempo ci sono io questo per dire non solo che mi schermisco insomma delle parole che mi avete riservato però è è bello sentir parlare amici come ho sentito finora e studiosi raffinati condotti magistralmente da da Elena e Sabrina e orchestrati dal buon Yuri per cui ora non riuscirò a tradurre il messaggio criptico del maestro Mangia quello che invece vi posso dire che insomma io sono un un ascoltatore attivo per cui al di là delle cose che insomma delle parole buone che non merito appaio in un modo che è il mio modo di essere insomma che è questa cosa qui che significa sostanzialmente invece provare a a farsi più domande possibili ascoltando insomma cercando di di capire quello che succede intorno per cui io forse la la cosa che diceva il maestro Mangia io la riconduco invece a un filrugio che io da quando avete iniziato questa galoppata caprina intergalattica ho rintracciato invece in tutti gli interventi che avete ospitato secondo me voi avete fatto da catalizzatore la capra in maniera magnetica tratto alcune cose che anche se in studi così differenti e in approcci così diversi invece siete riusciti a ricondurre ad un percorso insomma a un'indicazione di strada per cui insomma queste le parole di di Stefano Mangia sono in realtà un viatico insomma non parlavano esattamente di me parlavano di di uno sguardo sulle cose e questo qui forse è un invito a guardare meglio le cose che ci stanno intorno grazie prof allora ci hai anticipato di essere un antropologo e di avere uno sguardo acuto sul mondo ora quali chiavi di lettura una prospettiva antropologica può offrire rispetto ai bisogni educativi dei nostri giovani e dall'altro lato specularmente rispetto agli strumenti in possesso delle nostre classi docenti agli strumenti educativi quali sono i portati dell'antropologia che cosa l'antropologia dà agli uni e agli altri come strumento mi tocca fare delle premesse brevissime una che viva Dio io insegno anche a scuola che è la cosa che mi dà un rapporto e quindi un punto di osservazione privilegiato nel bene e nel male insomma con questo mondo articolato quindi confesso subito insomma lo sguardo che ho l'altra che le le risposte dell'antropologia in realtà si tramutano in domande per cui insomma non riuscirò a essere esaustivo in una domanda così suggestiva ma proverò a renderla problematica questa questa faccenda sostanzialmente questo io mi sono approcciato all'insedimento a scuola e il rapporto con privilegiato che ho con gli amici pedagogisti qualcuno di quelli che avete avuto il piacere di invitare nelle puntate precedenti e in quelle che seguiranno perché sostanzialmente il rapporto fra antropologia e pedagogia è legato in maniera intrinseca proprio alla comprensione dei contesti culturali e sociali in cui per esempio l'apprendimento si realizza la connessione fra queste cose è un'espressione di quella che viene chiamata l'etnografia scolastica cioè un approccio metodologico che si focalizza sulla partecipazione attiva all'interno di quelli che sono gli ambienti educativi questo approccio offre per esempio ai docenti diverse chiavi di lettura che mettono alla luce per esempio le connessioni sui fattori culturali e sociali o quelli individuali che non sono da meno io mi sento di suggerire una serie di cose che diventano cruciali le diversità culturali che è un confronto necessario rispetto all'alterità con quello che è altro da noi queste differenze queste differenze la gente banalizzando dice che sono ricchezze io non lo so se sono realmente ricchezze ma uno ci si confronta su questa cosa qua e poi le cose ti piacciono le impari a conoscere ti cimisuri ti spaventano però l'approccio è questa roba qui devi conoscere l'altro e l'altro comincia esattamente dove finisci tu esattamente dove finisce la tua pelle questa è una cosa gli insegnanti quindi devono essere sensibili a questo tipo di differenze ritornando proprio alla domanda rispetto agli strumenti educativi costruzione per esempio sociale di un apprendimento potrebbe essere anche l'altra cosa interessante e poi anche quella che potrebbe essere intesa come una parolaccia iper abusata che è quella di una costruzione dell'identità analizzare l'educazione contribuisce alla costruzione identitaria di queste giovani donne e giovani uomini e il fattore come il genere l'etnia le classi sociali o gli elementi culturali supportano gli insegnanti nella comprensione di queste differenze ecco perché un approccio che può essere quello interculturale e qui permettetemi una divagazione su un po' di incomprensioni che a volte sento anche in giro insomma i giornali ci assordano di cose che vanno dal multiculturalismo all'intercultura gli amici pedagogisti e conoscendo Elena e Sabrina conoscono perfettamente che la risposta è l'intercultura la multiculturalità è assieme sia uno stato di fatto che il risultato di flussi migratori e di incontri o scontri fra culture l'intercultura invece è il processo educativo che è un processo intenzionale e deve essere progettato da educatori per rispondere a tutte quelle sono le necessità le sofferenze le incomprensioni che ci sono all'interno per esempio delle classi o delle cose che sono accadute negli ultimi diciamo così 40 anni l'intercultura oltrepassa la tolleranza lì c'è bisogno del confronto dello scambio del cedere una parte di sé e di fare un passo indietro quindi anche di uno scambio culturale ed è lì che poi si innesta questa questa cosa che fra antropologia e pedagogia c'è in comune che è la riflessività l'insegnante viene spinto ad esaminare in maniera critica tutte le scelte sia educative e questa sorta di autocoscienza sostanzialmente non può che generare un miglioramento continuo basato su un'osservazione empirica di tutte le dinamiche scolastiche e lì ecco perché l'approccio di una teoria dell'apprendimento situato comprendere i contesti culturali sostanzialmente Sabrina per rispondere alla domanda ci mette in una condizione in cui la prospettiva deve essere il più ampia possibile perché lì colgo la complessità dei bisogni educativi degli studenti cerco di comprendere un'azione e quindi i metodi educativi e il connubio fra una teoria e una pratica è essenziale per diciamo così per costruire un abito su misura che dovrebbe essere quella che è la strategia educativa per i nostri studenti e le nostre studentesse insomma ecco perché insomma sono un fautore di quella che può essere un approccio dell'etnografia scolastica all'interno della diciamo del mondo scuola ecco su questo mi sento di di essere un fautore insomma lì ci sono delle cose osservare con il metodo della partecipazione sul campo ecco l'osservatore partecipante vi faccio un piccolo esempio così non parliamo in maniera astratta l'osservatore senza scomodare i grandi dell'antropologia però guarda le dinamiche sociali e culturali all'interno di comunità altre lontane differenti invece lo studio dell'osservazione etnografica in classe un invito per esempio ai nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici è che un osservatore guarda delle dinamiche all'interno del gruppo classe non so prestare una penna o non prestarla dare quella gomma offrire un pezzo della merenda e quindi là dentro ci sono una serie di cose che sono la dinamica del dono perché quello si e perché quello no come ci si muove nello spazio queste piccole osservazioni anche su il setting d'aula sulle dinamiche relazionali sugli interessi culturali fra i diversi gruppi all'interno della classe quindi una micro cultura all'interno di una macro cultura quella del gruppo classe aiuta in un'osservazione empirica qualitativa ci mancherebbe non è quantitativa qualitativa a trovare una risposta educativa per esempio anche nel caso di un'altra parola abusata che è quella dell'inclusione che insomma sulla quale c'è qualche criticità insomma su cui io forse non la penso completamente so che siete brave ferrate su questo però sull'inclusione anche su quello ci sarebbe da ragionare sì è parecchio indubbiamente però è un termine è una di quelle parole che Rist definiva potremmo dire noi a inclusione io ci metto anche accoglienza quelle le parole simulacro credenze no? quelle parole quei concetti in cui tutti credono perché sono verità diffuse le considerano verità diffuse ci credi perché credi che tutti ci credano e diventano parole passepartout come le definiva paparella parole che uno utilizza in una conversazione per accaparrarsi il favore del pubblico perché come fai ad andare contro una parola come accoglienza o inclusione però poi il vero significato un'analisi di cosa viene fatto che cosa quali azioni vengono intraprese sotto legida di queste parole simulacro insomma meriterebbe una ben più approfondita analisi e ben più tempo una domanda professore come è noto ormai la capretta è un po' supposizioni ormai diciamo sorpassate ma è nel passato ecco la sua antipatia per il pedaggio l'ha portata ancora più indietro nel tempo di quanto forse lei avrebbe voluto allora cita questa domanda la suggerisce a lei cita Augè con i non luoghi e li contrappone ai luoghi antropologici che siccome deve fare sfoggio di caprina sapienzia deve anche definire quindi devono essere storici relazionali identitari per essere dei luoghi antropologici così da definizione da manuale perlomeno mentre il non luogo però c'è questi luoghi che sono l'esatta negazione come gli outlet le stazioni gli ascensori quei luoghi che si attraversano allora chiede è prelosibile il paradosso per cui le nostre città d'arte si stiano si stiano lentamente trasformando così come i nostri centri storici così strette come sono tra globalizzazione e turismo di massa e si stiano trasformando in un luoghi al pari di questi questi spazi artificiali che non hanno nessun legame col territorio che non permettono un incontro e che sono uguali dappertutto non sono identitari può essere così lei cosa ne pensa se ci diamo del tu Elena proprio l'hai toccata piano insomma è particolarmente articolare no no facciamo così ti rispondo con sì è così ti dico sì ora cerco di giustificare questo sì non prima però di aver chiarito una cosa non di vago insomma ritorno ad oce e ai non luoghi a intenderci su questa cosa sull'inclusione non è non sono contro l'inclusione secondo me va superato anche il concetto che era partito da integrazione e inclusione forse possiamo ambire ad una Francesco Acanfora la citava così ad una tolleranza pacifica fra le differenze ecco questa è la cosa migliore alla quale possiamo ambire che non è da poco insomma Ernesti Galli della loggia ha creato un po' di polemica nelle ultime settimane qualcuno ha risposto però ha posto un problema e siccome io so che parecchi dei nostri amici ci lavorano su quella cosa non possiamo lasciarli orfani c'è un macro mondo che va sostenuto questa è la prima cosa l'altra è che sulla scuola gravano una serie di incombenze a ciclo continuo e a tutti lì vanno a mettere sopra la croce c'è un grosso un grosso carrozzone che con grandi limiti e grandi spazi di miglioramento però deve mutare deve cambiare paradigma culturale e invece le si addossano così senza carichi né formativi né con oneri per l'ente dello Stato per esempio ora l'ultima è dopo l'educazione civile che ci sono 30 ore di orientamento obbligatorio anche dalla scuola secondaria dalla secondaria di primo grado oltre che la secondaria di secondo grado questo era per intenderci l'altra cosa volevo dirvi è che la capra che non è che è sfuggita soltanto al Dazio perché forse il fiorino chiesto da Sabrina ha subito la svalutazione per cui giustamente insomma ha cercato di capire trova altri liti io sono per la capra finché non torni ora che mi avete detto anche che ha trovato una condizione proprio temporale differente della nostra viva la capra ma ora torniamo torniamo a noi per cui la risposta io a Bruciapelo ti dico sì Elena Oge definisce questa cosa dei non luoghi che può essere applicata anche ai centri storici e alla città d'arte ti dico subito di sì perché nel contesto della globalizzazione del turismo di massa questa cosa sta avvenendo sotto gli occhi di tutti diciamo che qualcuno se ne accorge anche più diciamo così gli amici veneziani ecco per intendersi ecco così parliamo di cose che conosci conosci bene oppure l'accento toscano di diuri mi lascia parlare bene anche di di Venezia anche la citazione sull'ampredotto avrebbe delle cose su cui ragionare però vi dico i non luoghi sono spazi caratterizzati dall'anonimato dobbiamo intenderci su cos'è un luogo e quindi su cos'è un non luogo l'anonimato significa non solo una standardizzazione oppure luoghi omogeni per esperienze vissute ogè la poneva sulla differenza dei luoghi che sono antropologici cioè quelli che sono carichi di un significato che è culturale storico identitario in questa chiave il contesto delle città d'arte e dei centri storici sotto la pressione di questo turismo porta a una trasformazione di questi luoghi il turismo di massa quindi è chiaro che i luoghi di grande valore storico diventano spesso la destinazione di questi turisti quindi che bisogna che bisogna fare il problema è intenderci se la commercializzazione la standardizzazione di queste esperienze si adattano per esempio alle aspettative dei turisti e che quindi gli ospiti delle città invece danno un'offerta standardizzata indipendentemente dai luoghi e dall'anima identitaria le pietre che narrano come gentilmente ha citato prima Sabrina invece è saper ascoltare un luogo mettersi in ascolto di quel luogo e se lo ascolti noti le le differenze ogni luogo non può essere uguale dall'altro per cui io un cibo che mangio ovunque e non nel luogo in cui è stato pensato sperimentato ed è stato frutto di una costruzione anche identitaria e culturale forte questa cosa qui diventa una cosa che perde di valore di simbolo omogenizzare per esempio l'aspetto commerciale la presenza di catene commerciali globali per cui io posso trovare tutto ovunque figuratevi ora con la grande distribuzione online insomma amazon o altri gruppi mi riferisco per esempio a shine o altre catene cinesi insomma io ovunque anche in un paesino sperduto del meridione d'italia o di qualsiasi parte del pianeta ho una standardizzazione una globalizzazione diffusa le lezioni di fabio dei su questo sono emblematiche o c'è mi sento di chiedere supporto a tim mingold per esempio sul rapporto fra antropologia ed educazione ci suggerisce per esempio anche che la gentrificazione dei luoghi e la perdita di identità locale per esempio l'aumento dei prezzi immobiliari la trasformazione dei centri storici in luoghi orientati per esempio al consumo rischiano di far perdere l'identità locale gli angoli dei nostri luoghi dei paesi delle città d'arte insomma si stanno perdendo sono attraversati da migliaia da milioni di turisti all'anno città come Roma Firenze Venezia Torino la comunità locale quindi si sente addirittura estraneata ci sono moltissimi lavori pregevoli sul numero ormai di abitanti stabili a Venezia che è stato superato dal numero per esempio di abitanti mordi e fuggi ed ecco perché questa cosa qui diventa un tessuto sociale nuovo con cambiamenti significativi OJ definiva centri storici che possono sembrare statici perché il flusso di turisti essendo transitori li rende come quei luoghi non luoghi citati da Elena in definitiva i centri storici devono conservare il loro valore culturale però la pressione economica vale tanto questo turismo io non so se ora si può invertire il rischio però non è fermare bloccare mandare via perché perdere l'autenticità è l'identità locale e qui ecco perché a Iuri suggerivo prima questa lettura io faccio più domande bisogna intendersi su cos'è l'identità locale perché rischio di un folklore pacchiano è dietro l'angolo momenti culturali altissimi come la notte della Taranta ormai sono caratterizzati da situazioni come uguali a un rave è tutto quanto standardizzato è una patina i cibi tipici la tipicità di un cibo e le varie identità sono sono cose che insomma lasciano io non lo so se funzionano davvero queste trasformazioni solleva posso aggiungere anche un'altra cosa del professor Scott aggiungo anche un'altra cosa anche il souvenir si è standardizzato nella produzione nella vendita e nel fatto che se vogliamo farci caso non c'è neppure più la necessità che sia legato al luogo alcuni negozi di souvenir che purtroppo sono insomma come i funghi diciamo sono così ecco contagiosi nei centri storici non hanno nemmeno più la scritta della città o un legame non ripropongono più un motivo anche solo strettamente goliardico riferito al luogo ma possono essere cappellini possono essere sciarpette possono essere tutta di una produzione più o meno unica e unitaria ma in tutta Europa la borsa è proprio standardizzato per cui forse il professor Scott e poi chiediamo anche a Iuri se ci sono domande per far intervenire anche le persone perfetto allora mi taccio a brevissimo ce ne sono e posso anche dire che in fondo il sondaggino qua in chat per mantenere un po' tutti attivi chi è che non ha una calamita da frigorifero visto diciamo degli standard eh vedi Elena non ce l'ha è sempre la storia comunque chi è che non ha una calamita frigorifero di un qualsiasi posto d'Italia io penso che sia uno standard ci potrebbe stare Iuri ci può stare ci sta anche quello ma stiamo sempre bisogna sempre guardare anche il modus cioè la misura perché non può essere solo quello dopodiché il mercato viene occupato e non viene non riesce più non riesce più a sopravvivere quindi io non riesco a capire chi viene a Venazia e si ferma in questi bugi gattoli a comprare cose di un carabatto le chiamiamole carabatto non si offende nessuno ma sono completamente deterritorializzate non hanno nulla a che vedere quel luogo in cui sei esattamente e dopo se magari a due passi hai un luogo meraviglioso come la tipografia di Santa Maria per Domini hai un posto meraviglioso come la Perla Nera sempre lì vicino ma non li vedi non li riconosci comunque mi taccio perché è un discorso che meriterà ben più ben più generoso tempo e migliori tempistiche Iuri lascia la parola a te allora per le domande dai la voce ai nostri amici da casa assolutamente comunque io ero assolutamente a favore nel senso standardizzare vorrebbe dire anche rendere un prodotto sempre uguale in più versioni ma con la stessa idea di base fondamentalmente quindi poi alla fine la calamita quello è cioè è una calamita e può avere tutte le forme che vuoi ma fondamentalmente si standardizza su quello allora dicevo intanto le domande dal pubblico intanto mi hanno già brontonato mi hanno detto non posseggo calamite ok scusate non volevo male Giuseppe Bielo Buset 82 ci dice professore esiste un approccio antropologico all'insegnamento gli giro un'altra domanda perché ce ne sono diverse di metafora 20-24 e dice perché l'antropologia non si studia in tutti gli istituti superiori poi gli giro anche delle domande un po' più lunghe però intanto più o meno l'audio sì sì ci sono grazie erano ora ricordavo un Giuseppe quello sull'approccio antropologico a scuola all'insegnamento sì esiste un approccio antropologico all'insegnamento mentre Metafora ci chiede perché l'antropologia non si studia in tutti gli istituti superiori sono collegate le risposte Metafora già è emblematica come Nick insomma guardate io do una risposta che è questa cosa qui siccome è di pochi giorni fa l'attivazione dei nuovi CFU per la seconda abilitazione per i nuovi insegnanti per cui l'insegnamento parliamo anche di questa cosa qui passa per la formazione sempre a carico del docente di questi nuovi percorsi formativi ora occorre in una versione di 30 CFU completati in 60 CFU che sono propedeutici poi all'esame del concorso quindi è tutta una trafila perché ho fatto questa premessa perché qualche anno fa invece erano previsti questi 24 CFU che afferivano a 4 macroarie che erano quelle notissime della pedagogia della didattica e della psicologia diciamo così e a un certo punto così dal cilindro era spuntata una cosa c'erano dei CFU anche di antropologia quindi tutti quanti gli studiosi siccome siamo la disciplina cenerentola d'Italia saranno sbagliati sarà un'altra roba in realtà è una storia un po' più articolata perché che servivano c'era una grande professoressa che lavorava lì al ministero ha detto guardate che insomma un sapere antropologico potrebbe tornare di utile qualcuno al ministero dice ma lo sai che ti dico che forse il legislatore pensa così dice ma lo sai che ti dico forse a questi insegnanti se noi diamo qualche CFU di questi tipi strani che sono gli antropologi che raccontano fatti lontani uguali sulla diversità siccome abbiamo le aule piene di gente che viene da tante parti del pianeta i rumeni gli ucraini i cinesi questi amici del Bangladesh come facciamo qualche CFU di antropologia e risolviamo tutto quanto insomma questa roba qua e quindi a piana normalizziamo e quindi l'insediamento c'è chiaramente ho banalizzato e soprattutto la risposta non è questa perché invece è notare le differenze e poi cosa farne con queste differenze perché a volte sono in contrasto e invece è valorizzarle quindi le due risposte su Alessandro c'è un approccio noto arci noto su su cose che sono molto molto ben studiate e ben organizzate e ben organizzate e mi riferisco per esempio a Tim Mingle che prima ho ho suggerito di leggere Roberta Bonetti oppure l'approccio di Altin insomma c'è uno strumento in cui l'osservazione etnografica a scuola è uno strumento di comprensione quindi c'è una letteratura su questo a Bologna ci sono esempi che fanno riferimento a Roberta Bonetti su questo approccio metodologico che consente agli insendianti quindi di intervenire dopo un'osservazione etnografica a scuola c'è un grande lavoro su questo anche la Tassan ed è un ragionamento che produce dei risultati per cui c'è un filone di antropologia scolastica o di etnografia scolastica perché non si insegna in tutte le materie perché dal punto di vista metodologico qualcuno pensava che questa materia umanistica metà fra la sociologia e un po' di psicologia e un po' di filosofia questa materia era un po' strana nel mondo anglosassone in quello francese invece c'è grande spazio qui in Italia invece i grandi studiosi sono occupati sostanzialmente di demologia e questa cosa qui è stata vista come guardare per citare De Martino alle Indie di qua giù cioè a quelli lì che osservano cose strane fatti strani e perché poi noi eravamo un popolo che non avendo avuto quel tipo di colonizzazione pensavamo che questa cosa non ci riguardasse pensavamo che la diversità infatti studiavano gli italiani all'estero eravamo noi che andavamo dovevamo essere accolti integrati non figuratevi se inclusi e questa cosa qui invece in Italia non è andata c'è una specie di snobbismo perché si pensa che insomma non ci sia un approccio scientifico invece sostanzialmente c'è rispetto sia alla filosofia dove noi mettiamo l'uomo insomma per cui professore se ci sono altre domande io ti ne giri una però ti chiediamo di essere estremamente conciso perché c'è ancora la parola della capra e poi almeno secondo me Sabrina vuole scassare la tua granuola di domande bisogna arrivare almeno una ci sono le domande di Sabrina dopo quindi basta perdonatemi una domanda da parte di Danilo 042024 ci dice l'antropologia è una disciplina con un portato è una struttura scientifica molto solide questa analisi non potrà lasciarvi indifferenti perché riguarda anche noi tratte parole tratte da un suo insegnamento la prima parte mi sottolinea il valutare l'interpretare l'altro parte da un presupposto mettersi in discussione pensa che sia attualissima con l'interpretazione pensa che si debba sempre mettersi in discussione facendo riferimento all'intercultura non ci sono altre strade se rimango chiuso scelgo un'altra via se non mi confronto con un'altra cosa anche con con le differenze guardate sostanzialmente l'approccio fra l'etnocentrismo per cui io guardo l'altra cultura con superiorità quindi giudico do una patente agli altri oppure il relativismo culturale anche il relativismo culturale ha in sé un rischio che è quello dell'eccesso del relativismo per cui annullo il mio punto di vista io invece vi dico che anche le cose che osservo le osservo sempre per la mia formazione dalla famiglia da cui provengo dalla regione da cui vengo dagli amici che ho incontrato i film che ho visto i libri che ho letto le cose che mi han segnato le cose belle che mi sono capitate quelle meno belle per cui quella cosa lì è un approccio che ho sul mondo entrare in un rapporto dialogico con l'altro è l'unica possibilità che abbiamo anche per inseguire scusate la parolaccia per inseguire un'idea di gioia di vivere cioè provare a mettere una pennellata di colore insomma su quello che facciamo non sempre ci si riesce però Yuri ci sono altre domande che vuoi girare ce ne sarebbero altre ce ne sono in realtà un altro paio che forse potrebbe anche essere spesa allora la Gigliele la Gigliele risponderà a loro però velocissimo professore velocissimo poi parlare alla capra e poi esatto rispondiamo poi insieme me le appunto così casomai facciamo un discorso più complessivo ok allora la prima è che differenza c'è tra interpretazione antropologica e lettura storica di un fatto culturale poi abbiamo Meriam che ci chiede l'antropologia attuale secondo lei è eurocentrica e mentre Melisa Mace ci dice buonasera a tutti professore come si potrebbe invitare le persone a non avere uno sguardo standardizzato chiedo questo perché per esperienza personale ho conosciuto molte persone alle quali piace viaggiare e sono entusiasta a emigrare ma la loro motivazione viene meno quando non trovano prodotti tipici e o abitudini culturali come le proprie e questo è un peccato perché la ricchezza sta anche nella diversità ok allora rispondo brevemente così vi dico l'interpretazione o la lettura storica di un fatto culturale sì che c'è una differenza l'interpretazione presuppone senza scopo dare Clifford Gers il fatto che io mi ci metta dentro in quella cosa cioè io ci devo mettere l'uomo la lettura di un fatto culturale non è asettica in sé ci mancherebbe altro ma l'interpretazione è capire come all'interno di un orizzonte culturale quelle cose abbiano senso sostanzialmente quello lo studioso che analizza gli anni trenta in Germania gli anni trenta del novecento in Germania e quindi si trova col nazionalsocialismo e quindi ha a che fare col nazismo non significa che sia nazista è cercare di capire come mai un numero incredibile di persone abbiano trovato motivazioni storico sociali e culturali dietro ad una serie di cose e quello si può capire solo all'interno di un orizzonte culturale la lettura di un fatto storico è una chiave è uno strumento l'interpretazione invece cercare di capire e quindi fare un giro un po' più lungo più ampio e in quel giro c'è una riflessività per cui agisci su di te cioè l'antropologia è guardare cioè l'altro tu ti accorgi che l'altro è diverso da te perché guardi te cioè la diversità è perché vedi che sei diverso tu cioè è quello l'altra domanda era se l'antropologia è eurocentrica assolutamente no ora i più grandi studiosi sono di origine indiana ne cito uno su tutti che è Appadurai per farvi capire Ariun Appadurai fa roba spaziale vi consiglio le letture di Appadurai come un balsamo per davvero interpretare i fatti culturali che avvengono anche quelli diciamo così futuribili Ariun Appadurai fate fate questo lo sguardo standardizzato come lo si educa proprio educando culturalmente la gente cerca io mi faccio un'idea e cerco quelle idee quindi trovo conforto ecco perché vado a cercare sempre le stesse cose vado lì vado a New York ma mangio italiano vado a Bangkok ma cerco una matriciana non so cerco conforto perché mettersi in discussione è un po' più difficile il rischio di trovare altra cosa che se mangio tailandese può piacermi o no è un rischio però insomma mai lì cerchi di mangiare delle cose che ti piacciono cercare il conforto invece di uscire da una comfort zone e misurarsi con una con un'alterità sul cibo per esempio c'è tanto da dire perché noi pensiamo di avere una serie di cose un'identità secolare la dieta mediterranea che in realtà è frutto di cose americane per cui mi taccio perché i minuti corrono sì il tempo è un po' tiranno allora professore però non si può assolutamente lasciarti andare senza il messaggio della capra quindi poi il tuo parere il tuo pensiero però glielo farai arrivare nello spazio tornando indietro nel tempo come vuoi ti rimarrà l'impressione cosa ha scelto per te la capra ha scelto un libro che spero tu ami che è Elsa Morante Araceli e do subito lettura al passaggio prescelto secondo un'antica storiella esisterebbe nascosto in una foresta un sarto immortale che di giorno dorme appollaiato su un albero come i guffi di notte va in giro per le camere di certi mortali da lui prescelti ai quali cuce addosso nel sonno una camicia invisibile tessuta con i fili del loro destino da quella notte in poi ciascun prescelto senza saperlo se n'andà intorno cucito vivo dentro la propria camicia ne potrà mai da l'ora in poi mutarsela o strapparsela di dosso tale quale che se fosse è la sua stessa pelle e anzi ignoro per sempre del caso lui toccauto già che immerso nel sonno non sarà accorto di niente ciascuno fino all'indomani avrà ripreso a battersi per la propria esistenza secondo il solito senza spiegarsi il perché di certi pruriti sfoghi o malestri che lo fanno delirare e si dice in proposito che il salto notturno pregostando le smanie future dei suoi clienti ignari durante il proprio lavoro ad ogni gugliata rida se il salto poi nelle sue scelte segue un criterio personale una regola istituita oppure si affidi all'avventura la favola non lo spiega si tratta però in alcuni momenti di trovare dei casi rarissimi in cui il salto immortale dopo aver identificato alcuni mortali ne prende nota con cura distinguendoli con particolari contrassegni della generale normalità nel suo elenco universale dei corpi i loro nomi corredati dalle rispettive posizioni negli spazi notturni sono preceduti da una lettera P che può significare paradosso o privilegio eseguiti dalla segla NSCF che alcuni decifrano per non soggetti a casacche di forzato oppure a camicia di forza ma il salto immortale invaso da un'idea fissa non si adatta facilmente a simili anomalie Sabrina lascio la parola a te lasciando con te il professore la capra stavolta stasera ti dice prendi e porta a casa e mo ti porti a casa pure la mia sassaiola devi essere secco nel rispondere dacci tre spunti tre per un educatore siccome ti sappiamo impegnato nella formazione iniziale dei docenti futuri quali spunti ci proponi tre e secchi sulla formazione dei docenti insomma la cosa è veramente articolata perché va cambiato anche la prospettiva di pensare alla scuola per cui io direi secco un approccio riflessivo e critico bisogna incoraggiare alla riflessione critica essenziale per sviluppare insegnanti consapevoli e adattabili alle nuove sfide educative e quindi una riflessione che deve superare un'osservazione superficiale due le competenze culturali e una sensibilità sociale e una sensibilità sociale devono essere patrimonio indissolubile di ogni docente le importanze di saper leggere queste due cose sono fondamentali e poi secondo me vanno integrate le tecnologie educative cioè il mondo così come lo stiamo conoscendo ora è cruciale preparare gli insegnanti a integrare in maniera intelligente queste tecnologie educative mi riferisco anche all'intelligenza artificiale tipo generativo insomma non si può sfuggire da questo non voglio avere nulla a che fare con l'acqua disse il pesce rosso nella sua ampolla era un perfetto politico ci ho detto l'osservazione dell'antropologo è funzionalizzata all'individualizzazione e alla personalizzazione della didattica ti ho detto due parole in didattichese individualizzazione e personalizzazione ma tu mi devi declinare queste due cose secco secco con l'osservazione tipica dell'antropologo guardate secondo me riconoscere le diversità e quindi io trovo una nuova modalità di apprendimento le neuroscienze in questo ci aiutano passare per un'inclusione culturale e sociale potrebbe essere anche questa integrazione di prospettive culturali e la promozione per esempio di un clima inclusivo per una personalizzazione quella cosa che mi chiedevi della personalizzazione della didattica e forse il coinvolgimento di tutta la comunità educante così saranno contenti il professor Del Gottardo e il professor Romeo e il professor Tarsi gli insegnanti adottano un approccio in cui vengono coinvolti gli studenti e ci deve essere una connessione di tutti quanti gli attori e poi c'è una ricerca azione che deve essere adattabile su questo sostanzialmente il resto è un rischio mi prendo solo questa libertà il rischio è quello che James Clifford diceva che i frutti puri impazziscono se noi pensiamo all'identità come una cosa ferma chiusa bloccata e morta e quindi c'è quell'idea di folklore invece tutto va ridiscusso riorganizzato quella domanda sui non luoghi cioè se tutto viene ripetuto riorganizzato riattualizzato rimodulato ripensato ed è un'incarnazione di questa cosa qui allora funzionano altrimenti sono slogan appiccicati è l'ultimo sasso che lo sei tirato omologazione e multiculturalismo omologazione nelle periferie e multiculturalismo appannaggio dell'elite globali ah proprio la sessata mi è arrivata c'è questa dicotomia diciamo così Sabrina fra omologazione multicolorismo e multiculturalismo riflette una serie di dinamiche che sono molto complesse di tutte le società contemporanee ci sono differenze socioculturali e di potere però è importante che le generalizzazioni possono soltanto semplificare in realtà una vita sociale che è molto più sfaccettata e variegata per cui il rischio potrebbe essere quello di standardizzare i livelli culturali nelle periferie urbane si osservano omologazioni che sono spaventose perché le influenze culturali sono mainstream e quindi l'adozione di stili di vita di consumo di espressioni culturali uniformi mi riferisco per esempio a casi come quelli della musica oppure i prodotti culturali che noi guardiamo le serie tv internazionali quelle prodotte a Hollywood quelle pensate in Corea del Sud vengono viste in un luogo dell'Aspromonte come a New York City per cui si è molto più vicini rispetto a prima ci si veste allo stesso modo come Imanazzo o ascoltare non so la musica neomelodica napoletana a Torino o liberarla poi ci sono questa cosa che mi chiedevi proprio sulle periferie le pressioni socio-economiche lì ci sono pressioni che caratterizzano le sfide che li attendono globalizzazione e consumismo sono fra questo e le elite globali sono legate al mondo del business spesso alla tecnologia dell'arte quindi detengono un potere che non è da poco concludo dicendo che forse le periferie hanno una ricchezza nella diversità culturale che non è da sottovalutare anzi potrebbe essere la chiave di volta e alla chiave di volta siamo arrivati io ti ringrazio come le buone maniere mi insegnano per aver accettato di trascorrere questa produttivissima serata con noi e con il nostro quadrupede e ti ringrazio proprio perché questa chiacchierata si è rivelata come da attese peraltro istruttiva e piacevole a conferma di quanto pensavamo venerdì prossimo il salto immortale evocato dalla parabasi odierna dovrà darsi filo da torcere per ricucire gli squarci che la maleducazione produce nei contesti sociali e ce ne parlerà Barbara Summo che di politiche educative e di processi formativi se ne intende ora tu dovresti fare due cose lanciare un messaggio a Barbara in ordine al suo intervento e dire due parole alla nostra capra a te allora a Barbara Summo amica preziosa donna sapiente che rende facile quelle cose che personalmente non riesco nemmeno a comprendere invece lei te le propone con una grazia e una sapienza non comuni per cui l'invito è quello di continuare su questo percorso di grazia e sapienza proponendoci come la maleducazione come risorsa sia veramente una chiave e lo dice proprio ad una capra che è indiscichinata che se ne scappa che cammina in obliquo che con quel che mangia delle cose che mastica pietre e che viva Dio nessuno riesce a imbrigliare quindi se ne va il professor Tarsi ha trovato la strada la capra non deve tornare Elena lasciala andare vi prego tanto non ritorna la capra la capra se ne va ed è maleducata così ecco perché poi ritorna quando lei riappare insomma e per cui il messaggio che do a Barbara è quello di insegnarci il cambio di prospettiva e di consigliarcelo e invece alla capra dico di non cambiare prospettiva ma no caso mai facci un belato che ti raggiungiamo e io penso che nessuno voglia che questa capra torni perché ci stanno scrivendo vogliamo puntate più lunghe sono troppo brevi magari le puntate fossero più lunghe ok facciamo come nel calcio questo è il girone di andata poi si spera ci sarà quello di ritorno li rivedremo quindi insomma l'invito facciamo uno contro l'altro facciamo proprio il faccia a faccia facciamo il faccia a faccia l'intervista doppia facciamo eh beh potrebbe essere sì d'accordo noi dobbiamo un po' scusarci con Maria e gli amici del soroto letterario che si stanno aspettando gli abbiamo rubato qualche minuto gli stiamo rubando qualche minuto allora noi li salutiamo grazie professor Scott grazie Davide di essere stati con noi Sabrina un saluto anche tu e parlo il nostro Scott ciao un abbraccio di averci accompagnato grazie a voi e vi ricordo come sempre grazie anche a te bene allora sigla e ci vediamo fra po' ciao a tutti ciao grazie a tutti grazie a tutti